Bentornati a tutti e salve ragazzi salve finalmente ci siamo sul nuovo sistema operativo Windows 11 ragazzi Allora lo stesso procedimento come quello su Windows 10 come disattivare gli antivirus è lo stesso ragazzi è lo stesso Cercando smalettando sulla barra della ricerca di Windows 11 ho trovato fantastico veramente questo design fantastico delle cartelle Il cestino guardate buono il cestino si ok allora sulla ricerca adesso la ricerca ce l'abbiamo proprio al centro proprio al centro Ok allora ecco l'ho convinto defender firewall quindi ci clicco sopra lo sposto è lo stesso procedimento ragazzi è lo stesso procedimento Cioè è identico quindi file opzioni guardate vabbè questi sono i file da eliminare ma non ci interessa Allora dov'è Windows no 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 mi serve dove è l'azione eccolo qua azione proprietà eccolo qua Allora abbiamo lo stato firewall quindi attiva disattiva ok bene e abbiamo fatto Poi le connessioni entrata blocca predefinito ma io direi di lasciare così com'è però se volete disattivare gli antivirus Fate come sto facendo io adesso quindi disattivato attivato io metto attivato per forza E ok perfetto finito tutto qua però c'è un problema a me va un po' un pochino lento non lo so Avendo anche il processore Ryzen 5 36 quello della terza generazione la 1660 Super 16 GB di RAM ho installato Windows 11 sull'SSD va un pochino lento Ora voglio vedere un attimo l'impostazione della barra dell'applicazione Ecco vedete è cambiato tutto è cambiato tutto tutto è cambiato Quindi se io adesso voglio andare sulla gestione attività non posso andare Non so come devo vedere le gestioni attività Gestione con gestione di gestione gestione attività ecco Ah più dettagli per favore più dettagli vediamo Prestazione del pc ok vediamo 10 GB di RAM disponibile la scheda video ok SSD niente di che no niente di che ok perfetto No va alla perfezione ora andiamo un attimo a vedere una cosa Devo dire un attimo una cosa Windows update Ah un altro aggiornamento da fare ok va bene questo lo faremo più tardi Ok ragazzi quindi grazie a tutti per questa visione il procedimento è quello Quindi disattivare gli antivirus se avete bisogno di attivare Windows Non diciamo niente non diciamo niente non voglio dire niente Ma se volete io posso farlo non c'è nessun problema Come ho fatto con Windows 10 possiamo farlo anche con Windows 11 ragazzi Ok bene detto questo grazie a tutti per la visione E noi ci vediamo ad un prossimo video quindi ciao Mi raccomando lascia like iscriviti anche al canale ciao